musica ola ragazzuoli Benvenuti in questo nuovo video su VitaMozzi, ragazzi oggi andiamo a vedere una duplicazione in solo, veramente facile e veloce Allora, siamo in una sessione pubblica, perché sessione pubblica? Perché ci servirà la nostra auto-officina in comune con qualcuno Come facciamo a sapere se in comune basta andare sul pallino blu della nostra auto-officina, un'auto-officina qualsiasi Se vi uscirà in alta sinistra questa finestra con entra in un'altra auto-officina oppure in un'altra auto-officina vuol dire che è in comune a qualcuno nella sessione Perfetto, a questo punto ragazzuoli ci servirà il nostro centro operativo mobile, io l'ho già parcheggiato davanti alla mia auto-officina Andiamo a vedere gli altri requisiti, c'è bisogno, quindi del centro operativo mobile ragazzuoli con, mi raccomando, importantissimo come requisito Quindi centro operativo mobile, terzo slot, deposito, veicoli, personale, mi raccomando, se non lo fate, nada de nada Dopodiché ragazzuoli abbiamo bisogno anche del veicolo da sacrificare A questo punto prenderò la mia fedelissima, questa volta Sanchez e la vado ad acquistare e la vado a mettere direttamente nel mio centro operativo mobile Ovviamente l'avevo già acquistata, era solo per farvi vedere, ok? Centro operativo mobile, Sanchez, perfetto A questo punto ragazzuoli servirà il veicolo che vogliamo ovviamente duplicare, ok? Quello che ci farà fare i soldini Io utilizzerò la mia Easy Futureshock, se non ce l'avete ragazzuoli vi consiglio di entrare nel gruppo Telegram e scambiarla con qualcuno Ovviamente ricambiate sempre, ok? Ricambiate sempre il favore Perfetto, a questo punto ragazzuoli una volta che abbiamo tutti quanti i requisiti dobbiamo avere anche la tuta da sub buggata Ok? Ragazzuoli per avere la tuta da sub buggata vi lascio il link in descrizione del video che ho fatto su Tik Tok È veramente facile buggare Allora entriamo nel centro operativo mobile Avremo la nostra Sanchez che abbiamo acquistato a inizio clip Saliamo sulla Sanchez con triangolo e premiamo R2 per uscire Una volta fuori ragazzuoli ci mettiamo davanti la nostra auto-officina Ok? Dobbiamo selezionare la granata Altro requisito ovviamente importante, ok? La trovate in qualsiasi negozio della Munation Ok? Quindi selezioniamo granata con quadrato Perfetto A questo punto dobbiamo mirare verso l'ingresso dell'auto-officina Lanciare la granata e dopodiché premere il tasto Option e andarcene su Mappa In questo modo Quindi adesso andiamo a fare l'operazione Quindi lanciamo la granata Ci avviciniamo Tasto Option e ce ne andiamo su Mappa Fino a quando non esplode la granata Perfetto A questo punto ragazzuoli spawneremo di nuovo e possiamo andare a chiamare il veicolo che vogliamo duplicare Quindi ce ne andiamo su Meccanico e da Meccanico andiamo a chiamare la nostra Easy Future Shock Andiamo a selezionare ovviamente il garage dove abbiamo il veicolo La andiamo a richiamare Aspettiamo che spawna in Mappa Mi raccomando Fate attenzione a questa parte Perché è una parte importante Ok? È una parte importante per la duplicazione Allora Una volta che è spawnato il nostro veicolo Dobbiamo aprire il telefono con la freccia in su Premere Triangolo Salire sul veicolo Fate attenzione a questa parte Mi raccomando Dopodiché ragazzuoli Questo praticamente è la parte più importante del glitch Ok? Allora Vi dovete mettere dietro il centro operativo mobile vostro Ok? Con il telefono sempre alzato A questo punto ragazzuoli dobbiamo andare verso il centro operativo mobile Non appena stiamo per arrivare al centro operativo mobile Dobbiamo chiudere il telefono Ok? Molto importante perché se arrivate dietro il centro operativo mobile con il telefono abbassato In quel momento proprio quando siete sul pallino blu Vi si bagga l'immagine Ok? Quindi dovete chiuderlo prima di arrivare al pallino blu Quindi io accelero E faccio in questo modo Perfetto Una volta che saremo all'interno ragazzuoli guardate bene la targa 454 finale Ok? Perché tra poco cambierà Apriamo gli sportelli e dobbiamo bloccare gli sportelli con le bombole Quindi andiamo su touchpad Andiamo su ceo Se non vi esce aspettate tre secondi Ok? Andiamo su ceo Andiamo su gestione Stile E dobbiamo bloccare gli sportelli in questo modo Freccia destra Freccia sinistra Freccia destra Freccia sinistra Ok? Quindi destra sinistra Destra sinistra Perfetto Ragazzuoli io blocco gli sportelli Ovviamente vi taglio la clip Ok ragazzuoli come vedete abbiamo bloccato tutti i due sportelli Adesso dobbiamo premere all'uscita del centro operativo mobile Triangolo e X insieme Ok? Come vedete la nostra targa è cambiata Quindi questa sarà la prima copia che siamo andati a fare Adesso per salvarla dobbiamo rientrare di nuovo nel centro operativo mobile Con freccia destra Ok una volta all'interno ragazzuoli Andiamo a sostituire con un altro veicolo Ovviamente da sacrificare quindi un'altra Samchez E possiamo riniziare di nuovo ovviamente a fare un'altra copia Se nel caso vi si bugga ovviamente l'ingresso del centro operativo mobile Non è un problema Basta cambiare sessione e riprovare di nuovo a fare un'altra copia Ragazzuoli un glitch veramente facile e veloce Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like Condividete, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella Grazie a tutti